Buonasera, replico a Matteo Bassetti, non tanto come medico anestesista rianimatore quanto come giurista perché giuridico è il problema. Matteo Bassetti si esce con un post dove dice condivido la posizione dei colleghi di Bologna, ogni medico che esprime posizioni contro la vaccinazione per il SARS-CoV-2 dovrebbe essere sanzionato. Il Consiglio d'Europa ha votato pochi giorni fa per la non obbligatorietà, per il fatto che chi non vuole essere vaccinato non deve essere vaccinato e per il fatto che imporre un obbligo vaccinale o un passaporto vaccinale sarebbe contrario alla scienza. Sono cose che sono state scritte in italiano. Ora, se l'ignoranza giuridica è così profonda da non capire che un post simile non dovrebbe non solo essere scritto ma nemmeno pensato, allora la situazione è molto più grave di quella che io pensavo che fosse. E lo ridico per un'ultima volta, sperando che questa volta il messaggio arrivi, perché diversamente bisognerà prendere provvedimenti giuridici se si continua a usare questo tono. Il vaccino è sperimentale e come tale non può essere imposto. 2. La medicina non è una medicina di Stato, ma la medicina segue il metodo e il criterio scientifico. Significa che non è Bassetti e nemmeno Bologna che decide chi è medico, chi non è medico, chi va sanzionato e chi non va sanzionato. Se si vuole procedere in questa direzione ci saranno tutte le conseguenze legali del caso e saranno pesanti perché mi farò io da portavoce per questa situazione. Mi farò io carico di impostare in tutte le sedi legali concesse dall'ordinamento di fare in modo che queste posizioni vengano sanzionate ma dall'ordinamento giuridico, non dal codice deontologico. ritengo oltretutto che sia una gravissima violazione del codice deontologico cercare di imporre una visione di un problema così grave utilizzando la propria immagine televisiva e poi se posso dire a me dei separietti televisivi dove la gente si strappa i capelli non interessa, basterebbe stare meno in tv ed incorrere meno poi in polemiche. Ma visto che questo non è sufficiente e visto che si fa finta che la Costituzione non esista, che l'Europa quando fa comodo esiste ma quando non fa comodo non esiste, che le libertà costituzionalmente garantite e i diritti costituzionalmente garantiti siano roba da pulire con la carta igienica, allora no. Quindi questa è l'ultima, spero, diretta sul problema, perché se non si vuole capire come giuridicamente stanno le cose, non voglio neanche dire dal punto di vista medico perché mi rifiuto, mi rifiuto di scendere sul piano medico, mi rifiuto, perché scenderò poi probabilmente in separate sedi, anche qui nelle sedi competenti, ma non qui su Facebook. Su Facebook ne faccio una questione di diritti e di libertà che sono stati calpestati fin troppo. Ora, o ci si dà tutta una regolata, oppure le conseguenze ci saranno. E vi assicuro che quando la magistratura interviene su determinati temi, ci interviene con i criteri giuridici. E sono i magistrati che devono giudicare i medici e non i medici magistrati. Per cui vi fate un corso accelerato di diritto costituzionale o continuerete a dire minchiate che non hanno diritto di cittadinanza nell'Italia del 2021. Spero che questo sia sufficiente.